buon dia amici buon venerdì scusate ma sto proprio sotto sopra ora di colazione questa mattina mi sono fatta il latte col pane che da un po che non mi facevo inizio a mandare perché sennò si ammola troppo sono semplicemente due fette di tost tostate niente di che era una brutta giornata sono stato dalle due e mezza fino alle 7 un quarto l'ospedale avevo detto che non stavo bene e non si capisce se ho una cosa o se ne ho un'altra per questo ve lo dico di nuovo non mi piace la sanità qua in illiterra il gp sarebbe il medico di base dice che ho una cosa è un'infezione renale mentre l'ospedale sostiene che potrei avere i calcoli renali non lo so quindi il medico di base mi ha dato delle medicine che secondo il medico dell'ospedale non vanno bene infatti ho l'antibiotico da prendere però ho ancora il braccialetto mi serve perché stamattina alle 9 devo andare a fare lo scan c'è la radiografia in poche parole per vedere appunto se sono presenti della sabbia sassolini insomma non sono stanca di non sapere cosa veramente però vediamo comunque dallo scan si vede voglio dire se ci sono calcoli quindi ho sconti la devo prendere questa va bene vitamine e questo questo comunque io vi auguro un buon venerdì è in voll grazie ho 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 Grazie a tutti